Col Covid in perenne agguato, tutto sembra sospeso in un limbo amaro. Il campionato di Serie D si ferma per due settimane, con l'intento volenteroso di recuperare le diverse, troppe gare rinviate durante le giornate precedenti. Ed è l'occasione propizia per i neroverdi per riflettere sui match fin qui disputati e, soprattutto, proseguire l'affannosa, non certo per colpa loro, preparazione. Tutti nell'ambiente sapevano che l'inizio sarebbe stato ad handicap, con lo spagliatoio ridotto a porto di mare, con calciatori anche di gran vaglia, che arrivavano nel corso della settimana e si andavano ad innestare su un gruppo che ancora cercava una sua precisa identità. M. Nicola Ragno è un guru e sa quel che fa, tant'è che a tratti la sua squadra è apparsa di categoria addirittura superiore, quale che fosse l'avversario che li si parasse di fronte. Poi magari, a lungo andare, i ragazzi finivano per restare a corto di benzina ed è così capitato che i rivali di giornata pareggiassero o vincessero. I moduli tattici cambiati di volta in volta sono il sintomo che si è ancora in busca della giusta quadra e che, giocoforza, bisognava usare quegli appuntamenti come laboratori per sperimentare la manovra. Figliolo è sempre più gattesco e il timore che i club più blasonati ce lo fuffino è alto. Si riepetta solo una garanzia dietro, manca solo loro un po' di cattiveria agonistica per divenire invalicabili. Il centrocampo appare fragile, specie quando va in debito d'ossigeno capece e il gladiatorino Mariani certamente non può cantare e portare la croce insieme. Piarulli il solito macina chilometri che non vada vanificata questa sua lucente virtù. Il potenziale offensivo appare esplosivo, solo che per fare un cocktail di successo urge shakerare in modo adeguato gli ingredienti che appaiono eccellenti. Insomma, ci sarà da lavorare per l'allenatore moffettese che infatti è il primo ad esserne consapevole, tant'è che ha organizzato un tour de force di sedute d'allenamento che serviranno a colmare il gap che ci separa dalle favorite del torneo.